Cominciamo con una domanda. A chi non piacciono gli spaghetti al pomodoro? È un piatto semplice che ognuno si può fare benissimo a casa. Mettete che siate invitati, o ancora meglio, scegliate di andare in un ristorante stellato e ponete il fatto che dopo aver escorso il meraviglioso menù decidiate invece di chiedere un piatto di spaghetti al pomodoro. Sicuramente ve li farebbero. Ma quante opportunità vi perdete se andate in un ristorante eccezionale e ordinate gli spaghetti al pomodoro? Cioè avreste la straordinaria opportunità, possibilità di provare piatti sublimi, ma ordinando gli spaghetti vi perdete appunto tante esperienze, tanti gusti, tante opportunità. Avete presente quelle trattorie con ciò scritto «Qui si mangia come a casa tua»? Credo sia una delle peggiori pubblicità possibili, perché se tu mi dici che da te mangio come a casa mia, io resto a casa mia. Ordinando solo quello cui siamo abituati normalmente, ci perdiamo appunto tante opportunità di scoprire, di stupirci, di gioire. Ecco, andare a teatro è un poco questo. È avere la possibilità di provare sensazioni sublimi che non avremo modo di provare altrimenti. Il teatro è quello che non vedrete mai a casa. È una qualcosa di ripetibile, unico, unico, come ognuno di noi. Poco tempo fa, vedi una vignetta, tanto semplice quanto intelligente, era raffigurato un cervello che parlava di un cuore e gli faceva una domanda. Gli diceva «Ma ti sei mai chiesto come mai tra le cartacce buttate per strada ci sono tanti grattevinci e nessun biglietto del teatro?» Ecco, questa è una domanda efficace. Porsi delle domande è importante. Invece oggi siamo invasi da questa leggerezza, questo invito costante alla leggerezza. Siamo talmente imbottiti di leggerezza da non riuscire nemmeno più a capire noi stessi. È da quella foce di leggerezza poi che arrivano i problemi, i guai seri, che portano a quello che vediamo. Criminalità, superficialità, miopia sociale, arroganza, ignoranza, persone che vogliono dire la loro su argomenti dei quali non sanno nulla. Si è costruito un mondo affinché si dovesse essere così. Leggiamo una notizia bufala e la nostra ignoranza, unita alla leggerezza, la diffonde anziché verificarla. E questo cosa comporta? Comporta tutte queste piccole gocce di veleno che intossicano un acquedotto di comunicazione. Prendiamoci il tempo, invece, di fare delle domande. Oggi scriveremo in una preghiera Dacci oggi la nostra approssimazione quotidiana. Rimetti a noi le nostre banalità e non ci indurre in sentazione sopra le tre righe. Guardate che società che abbiamo costruito. Noi operatori culturali abbiamo il dovere di offrire spiragli da dove osservare meglio chi siamo. Abbiamo il dovere di indicare e dire guarda cosa fa il teatro, guarda cosa fa l'arte, guarda cosa fa la letteratura. Quelle artiste e gli artisti su questo palcoscenico parlano di te, proprio di te. Vieni in teatro ad ascoltarti, a conoscerti finalmente. Quelle sul palco sono le domande che ti servono e che serviranno ai tuoi figli. Emanuele Arolla è un'attrice straordinaria. Chi ha avuto il piacere di vederla su questo palcoscenico l'anno scorso se la ricorderà per anni perché lo spettacolo era meraviglioso. Lei alla fine dello spettacolo il pubblico non se ne andava. Lei si è seduta sul palco e ha chiacchierato col pubblico. E ha detto una cosa. Il teatro deve fare domande, non deve dare risposte. Capite la meraviglia di questa frase? Ognuno di noi cresce se si fa delle domande, non si cresce trovando le risposte più ovvie e banali. E invece viviamo in una crisi di rispetto di contenuto, in una crisi di rispetto di competenze, giudichiamo senza conoscere. E in questo modo l'umanesimo si è logorato. Noi dobbiamo ristabilirne in qualche modo i valori. Per noi e soprattutto per le nuove generazioni. Nuove generazioni che tra l'altro stasera sono anche sedute qua. E questo mi fa molto piacere. A teatro, come sapete, c'è chi ci fa piangere di gioia e c'è chi ci fa ridere dei nostri dolori. A teatro posso provare delle sensazioni contrastanti, posso appunto sentire questa cosa, posso avere, anzi devo avere, la curiosità di conoscere lo sconosciuto. E poi magari cercare di consolidare il plauso a ciò che conosco. Massimo Luconi è un docente del Centro per le Arti e per lo Spettacolo e insegna ai suoi allievi una frase meravigliosa. Un teatro che non sia scomodo è un teatro nel quale non sta succedendo nulla. Riflettete molto su questa cosa. Internet, come sapete, ha poco più di 30 anni, il cinema cerca 150 anni, la radio poco meno, la stampa, i libri e la letteratura hanno qualche secolo, ma come sapete, per la maggior parte di questi secoli erano di accesso a pochissimi, proprio perché costosissimi. Sapete quanti anni ha il teatro? Quando è nato il teatro? Il teatro è nato 26 secoli fa. Do un altro punto di riferimento per chi è credente. Il teatro è nato tra il VI e il V secolo prima di Cristo. Prima, 500 anni prima di Cristo. E il teatro, per tanto di questo tempo, era l'unico mezzo di comunicazione, era l'unico linguaggio comune a tutti. Anche adesso il teatro conserva questo ruolo, ma deve lottare con mezzi, come sapete, molto più veloci. Però c'è una caratteristica che nessuno di questi mezzi potrà mai avere, che è la qualità unica del teatro. L'incontro, la presenza reale, il contatto fisico. Questa è una qualità unica del teatro. Queste assi del palcoscenico e queste poltrone sono un bene primario. È bene ricordare ciò che rappresenta l'unicità valoriale che un teatro porta in una comunità. I teatri stanno cambiando anche i loro contenuti, stanno cambiando anche le loro offerte. Purtroppo, anche in un settore così importante come la cultura e lo spettacolo, conta più chi sei rispetto a ciò che sai fare. Questa è la tragedia. Tragedia della cultura, della popolarità in Italia. Quello che sai fare conta meno di chi sei. Guardate, il tag, e in tanti altri luoghi d'Italia passano artiste e artisti eccellenti. Li vedi lavorare e poi dici ma perché questa persona non la conosce tutto il mondo? Perché fuori da questo teatro non ci sono 3000 persone, 3000 cittadini che spingono per venire a vedere? E perché invece qualcuno che è mediocrissimo è famoso? Ecco un'altra domanda da porci. C'è una frase che mi ha molto colpito, probabilmente l'avete visto anche voi, il film Un mondo a parte di Riccardo Milani. C'è una frase che mi ha colpito che dice abituarsi al peggio è la cosa più brutta che un essere umano possa fare. Questa è una frase che dovremmo ripetere come un mantra dieci volte al giorno e mandare a memoria i nostri figli. Abituarsi al peggio è la cosa più brutta che un essere umano possa fare. Poi cosa vediamo tutti i giorni? Bullismo, body shaming, micro criminalità, baby gang. E gli esperti intervistati che dicono giustamente bisogna investire in cultura. Vediamo violenza di genere, disparità sociale e gli esperti che dicono bisogna investire in cultura. Mancanza di sviluppo economico e crescita e gli esperti che dicono bisogna investire in cultura. Intolleranza, razzismo e gli esperti che dicono bisogna investire in cultura. Ma allora, come mai alla frase per risolvere i problemi bisogna investire in cultura non ne diamo un seguito reale investendo sempre di più anziché sempre di meno? Ecco un'altra buonissima domanda da farci. è una società molto strana la nostra è una società che ci ha portato ad avere uno sguardo mio ci ha portato ad alzare sempre meno la testa dal nostro piatto al pomodoro e dalle nostre finte certezze a farsi sempre meno domande ad ascoltare le ignoranze e a isolare chi ha preparazione e cognizione a giustificare le idiozie e a confinare le intelligenze quando la salvezza risiede esattamente il contrario la salvezza di una società. Venire a teatro significa fare esperienza significa affidarsi significa accoglierne i contenuti rari e inestimabili. il teatro offre qualcosa di simile all'educazione offre conoscenze, visioni, passi in avanti il mondo del teatro non lo dico per primo sta subendo accerchiamenti sta subendo aggressioni, villanie avete visto tutti cosa sta succedendo e cosa è successo in tanti teatri italiani mi viene in mente lo stabile di Catania il piccolo di Milano lo stabile di Trieste il teatro di Roma con le intromissioni e le nomine partitiche all'interno dei CDA e delle direzioni sono più di 400 i teatri chiusi negli ultimi anni anche in questo mondo la cosa che dispiace è proprio che i teatri stanno diventando ostaggio o mezzo dei partiti per tutto ciò che esula dalla cultura e dallo spettacolo anche in questo meraviglioso mondo del teatro qualcuno continua a pronunciare la frase più terribile e pericolosa da dire in ogni ambito si è sempre fatto così allontanatevi sempre da chiunque dica in qualsiasi situazione si è sempre fatto così perché ho davvero e ve lo dico con tutta la passione che metto in questo lavoro ho davvero il cuore in pena per come certa politica certi partiti trasformino un bene comune in un campo di battaglia è veramente grave questo se persone senza il minimo di cultura teatrale spesso senza il minimo di cultura in assoluto si permettono di intromettersi nelle scelte artistiche oppure addirittura di controllarne gli investimenti quello su cui vogliono mettere le mani è la funzione pedagogica e civica del teatro e l'idea veramente democratica di società mi vengono in mente proprio a proposito di questo che sta succedendo le stupende parole di Tony Servillo che in merito a questo ha detto l'incompetenza deve spaventare tutti i danni che può fare un fesso nel posto sbagliato sono incalcolabili il teatro che stiamo formando questo teatro è un luogo d'incontro per costruire una comunità dove ricevere quella bellezza che serve al cuore e quel nutrimento che serve alla mente anche attraverso tutti gli spettacoli che facciamo è una società strana la nostra molto strana dove giudichiamo uno spettacolo dal titolo senza nemmeno averlo visto senza nemmeno esserci entrati in teatro perché? perché il nostro gusto si è appiattito sulla piatto al pomodoro e sulla crescentina fritta questo è gravissimo Michele Serra ha condensato in una frase precisa questa nostra deriva sociale ha detto se l'Italia è in asfissia è perché da troppi anni respiriamo ovunque mediocrità il TAG in questi anni e chiudo è diventato un hub un luogo di transito di realtà preziose che collaborano tra loro che avvicinano orizzonti differenti tra di loro che dialogano quello che andiamo a presentare tra poco non è un cartellone teatrale ma è un progetto culturale un progetto non una lista di spettacoli pensiamoci bene un progetto per comprendere e capire finalmente e godere del valore del teatro quando si spalancano le porte di un teatro si spalancano per tutti le opportunità di un miglioramento sociale perché chi lavora per e con la cultura offre un arricchimento costituisce un arricchimento per tutta la società indistintamente venite a prendervi l'amore e la cultura e la cura che si costruiscono dentro al TAG vorremmo e aspiriamo a una corrisponsione di amorosi sensi visto che sono sul teatro il teatro è in qualsiasi luogo di si trovi il luogo più importante di pensiero è il luogo più alto di civiltà è il luogo privilegiato del dialogo il teatro è la fabbrica delle domande prendersi cura del teatro significa saper vedere un futuro migliore venire a teatro significa prendersi cura del nostro futuro un grande applauso ad Alessandro Dall'Olio direttore artistico del nostro TAG Teatro Granarolo grazie